Assestamento generale di bilancio all'ordine del giorno di oggi del Consiglio Comunale. Un atto importantissimo per il Comune dell'Aquila che arriva a tre mesi dalla problematica approvazione del bilancio di previsione. La maggioranza di centrosinistra infatti si è trovata a discutere di un assestamento da quasi 18 milioni di euro. Una cifra considerevole. Per l'opposizione questo assestamento denota un'assoluta mancanza di progettualità dell'amministrazione comunale. Tutti gli interventi che sono calati all'interno della delibera sono in realtà per mettere una pezza. Per cui sono o fondi provenienti dall'esterno, per esempio la donazione di 500 mila euro della CGL in cui il Comune ha dormito per anni prima di destinare questi fondi. 600 mila euro accantonati per il monumento alla memoria, ci siamo in ritardo di 7 anni su questa cosa. Quindi fa capire la mancanza assoluta di progettualità. A me piacerebbe, queste giornate d'aula mi piacerebbero per parlare del futuro della città, quindi di poter parlare della delibera delle aree bianche che oggi è ferma, del patrimonio immobiliare nato con le esigenze transitorie post-sisma, quindi con la delibera 58, sul quale il Comune ai cittadini oggi ancora non dice di che morti dovranno morire, non dice se potranno essere mantenute, se dovranno essere demolite. Mi piacerebbe parlare del patrimonio immobiliare che il Comune ha acquisito con la sostituzione edilizia. maggioranza invece compatta a votare l'assestamento di bilancio. Parere opposto a questo assestamento di bilancio perché siamo riusciti, grazie a un ottimo lavoro degli uffici e grazie al raccertamento dei residui, ad avere somme significative 18 milioni di euro a disposizione per fare quello che la legge impone e quindi di innanzitutto in via prioritaria pagare i debiti fuori bilancio che sono maturati, che provengono da lontano, a volte anche dalle amministrazioni precedenti di molti anni fa. E quindi praticamente risaniamo la situazione debitoria del Comune e riusciamo nello stesso tempo a realizzare interventi programmati.